Musica L'Abruzzo, la prima regione d'Italia ad uscire dal commissariamento della sanità dopo nove anni di tagli, economie e ristrutturazioni anche molto dolorose. A ratificarlo il tavolo di monitoraggio del governo al termine di una seduta a fiume conclusasi ieri sera a Roma, poco prima della mezzanotte. L'annuncio ufficiale oggi pomeriggio in conferenza stampa da parte dell'assessore alla sanità Silvio Polucci. La conseguenza sarà che il consiglio regionale tornerà sovrano nelle scelte sulla sanità, prima centrate nelle mani del commissario Luciano D'Alfonso. Un assaggio di cosa questo potrà anche significare oggi pomeriggio all'emiciclo, dove in programma il consiglio straordinario proprio sulla sanità. Il centrodestra è pronto a ribadire che il piano di riordino della rete sanitaria è pura macelleria sociale. L'opposizione del Movimento 5 Stelle è pronta invece a dare battaglia contro il project financing della Maltauro per realizzare il nuovo polo ospedaliero di eccellenza di Chieti, ritenuto dai pentastellati un pessimo affare per le casse regionali. Non è un mistero che il piano sanitario del resto crea attriti anche dentro la maggioranza, ma il capogruppo PD Sandro Mariani considera comunque un passo in avanti molto importante l'uscita dal commissariamento, anche per migliorare ulteriormente il piano di riordino. Esulta anche il presidente del consiglio Giuseppe Di Pangrazio, che difende il piano sanitario nei suoi contenuti, mettendo in guardia dalle critiche che nascono solo da anacronistici campanilismi. L'uscita dal commissariamento non è stata solo un'operazione ragionieristica, ma è stata un'operazione accompagnata con un nuovo piano sanitario che può garantire le eccellenze laddove devono stare, ma sicuramente una medicina territoriale che salva la vita dell'immediato. Immagino quindi che i cittadini siano contenti, soprattutto non solo per il ritorno all'autonomia sull'attività sanitaria della regione Abruzzo, ma anche e soprattutto perché il livello all'attenzione, ma soprattutto alla cura della salute dei cittadini, sta aumentando. Questo vuol dire che bisogna raggiungere sempre di più quella linea ideale che è un livello di qualità eccezionale per la cura della salute dei cittadini a costo giusto. Una vicenda assurda e sgredevole è arrivata finalmente ad un primo approdo positivo. Questo è il commento della senatrice Stefania Pezzopani al riferimento al rinvio a giudizio di Gianfranco Marrocchi, fotografo, e Marco Minucci, giornalista, insieme ad altre persone, per tentata estorsione e danni della senatrice nell'ambito della vicenda sui ricatti e politici. Un tentativo squallido di denigrarmi e danneggiarmi, che si inquadra in una vicenda ben più complessa in cui sono stata coinvolta anche con altre figure politiche, dice la senatrice come l'ex presidente della regione Gianni Chiodi. Addirittura in qualche intercettazione gli imputati esprimono l'intenzione di coinvolgere anche Giovanni Legnini. Nelle intercettazioni i due esprimono l'intenzione di demolirmi politicamente, dice Stefania Pezzopani, di distruggermi con storie assurde e ricatti, foto taroccate, addirittura con il coinvolgimento di altre persone, in particolare di una donna, che avrebbero voluto utilizzare coinvolgendo Simone per colpirmi. Attendo ora serena l'evoluzione del provvedimento giudiziario. La Pezzopani inoltre si interroga sulla gravità della vicenda e se gli imputati abbiano agito per conto proprio o se dentro un disegno che vede il coinvolgimento di qualche avversario politico o di una stampa, dice la Pezzopane, abituata agli scandali inventati di sana pianta. Torna la giostra cavalleresca di Sulmona, grande evento storico-culturale a livello non solo regionale. A illustrare il ricco programma della 22esima edizione, oggi all'emiciclo, il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pagrazio, il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, il presidente della giostra cavalleresca, Domenico Taglieri. Giornate clou il 30 e il 31 luglio con la successiva competizione a cavallo a piazza Garibaldi. Ma tanti saranno gli eventi dal 19 luglio al 9 agosto con il gran concerto di Renzo Arbero e l'orchestra italiana. Il racconto di un intero territorio che ha importanti tradizioni ma soprattutto ha un meito, quello di promuovere non solo la città di Sulmona, la Valle Peligna, ma l'intero Abruzzo agli occhi dell'intero mondo. Partecipano alla giostra cavalleresca, quella europea, tantissime nazioni, quindi è un'attività promozionale oramai che segna per quanto riguarda l'Abruzzo un'evidenza culturale, turistica, storica, importante di primo ordine. Non lesino a dire che la giostra cavalleresca è una di quelle manifestazioni che può essere benissimo inserita nell'albo nazionale delle manifestazioni che fanno bella mostra per quanto riguarda l'Italia. Io l'ho paragonata, ma a volte anche meglio, del Palio di Siena. Sono circa 30 giorni di attività culturali, di attività di promozione turistica che non hanno uguali nella nostra regione Abruzzo. Quindi bene fanno anche quest'anno il comitato giostra cavalleresca a promuovere queste manifestazioni a livello regionale organizzando una conferenza stampa qui in regione proprio per far capire non solo alla regione ma anche all'Italia intera di che valore storico e culturale ha questa manifestazione. Grazie a tutti.